Buongiorno, sono Davide Seggi, un attivista del Movimento 5 Stelle e volevo comunicarvi che domenica 18 maggio alle 11.30 ci sarà un incontro pubblico in piazza Don Bosco, sul diario di rimembranze, con i parlamentari calabresi e i candidati alle elezioni europee. Noi si parlerà di Europa, di quello che sta succedendo a Roma in Parlamento, insomma verranno presentati i candidati.